buongiorno a tutti eccoci di nuovo alle interviste video di tecnologie meccaniche un'occasione per confrontarsi con i principali operatori del settore della macchina utensile sugli argomenti di attualità mercato innovazione tecnologica servizio un po tutte quelle che sono le problematiche legate nel periodo attuale al mondo della macchina utensile ai nostri microfoni oggi abbiamo il piacere di avere l'ingegnere paolo e galini amministratore delegato di jobs che ringraziamo della sua presenza tra noi con lui vogliamo affrontare alcune delle problematiche importanti del settore e anche come jobs in questo momento le sta direttamente affrontando buongiorno ingegnere e benvenuto bene cominciamo subito con la prima domanda abbiamo vissuto e in parte sicuramente stiamo ancora vivendo un periodo decisamente complesso dovuto alla pandemia del coli 19 dopo un periodo di blocco di tutte le attività delle imprese siamo nella fase ormai di riapertura e ormai da più di un mesetto bene come sta affrontando in questo periodo jobs e quali iniziative ha messo in atto per riprendere la corsa del mercato e stare vicino ai propri clienti diciamo durante il periodo del cosiddetto lockdown abbiamo lavorato in termini molto contenuti a livello di circa il 10 per cento su poche commesse legate alla filiera aeronautica italiana alla ripartenza abbiamo fatto una campagna in tappeto di esami serologici su tutta la popolazione aziendale in modo da mettere in sicurezza sia i nostri dipendenti che quelli dei nostri clienti durante questo periodo ci ha aiutato la presenza delle nostre filiali in germania francia stati uniti e cina e questo ci ha permesso di garantire il supporto di service e la continuazione di alcuni cantieri in essere in queste aree attualmente lo stabilimento sta operando al 75 per cento della potenzialità stiamo utilizzando lo smaltimento ferie anche la la cigo e cosiddetta cigo covid che riteniamo di utilizzare nell'arco di tempo su cui questa sarà utilizzabile quindi in principio per la nella seconda metà di quest'anno alla riapertura che è avvenuta come giustamente ricordava lei un mese fa anzi ormai anche un mese e mezzo abbiamo cominciato naturalmente anche a muoverci per quanto nei limiti dei possibili delle modalità concesse in un contatto con i clienti ma durante periodi di diciamo di restrizione strumenti di contatto remoto con i clienti sono stati ampiamente utilizzati li utilizziamo parzialmente ancora oggi e le visite sui clienti sono ancora oggi fortemente concentrati sul mercato italiano visto che soltanto da metà giugno si sono aperte le possibilità di andare a muoverci nell'ambito di alcuni non tutti i paesi della comunità europea nel frattempo preso atto dell'annunamento di quasi tutti gli eventi fioristici che sono stati pianificati per 2020 abbiamo organizzato webinar e eventi territoriali sia nel nostro stabilimento che presso i clienti che caratterizzeranno la nostra relazione commerciale nella seconda metà del 2020 da su un punto di osservazione a questo punto vista questa situazione sicuramente complessa quali sono le sue previsioni nella seconda per la seconda parte del 2020 e per l'inizio del 2021 in particolare quali settori applicativi che potrebbero essere più sensibili all'investimento e in questo caso quali le azioni che sta facendo jobs in questo ambito certamente la relazione del mercato per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti e non dei consumi è una ripresa più lenta rispetto a quella dei consumi e il fattore di impatto del covid è maggiore rispetto a quello dei consumi ci aspettiamo nella seconda metà del 2020 un recupero rispetto al periodo marzo giugno ma questo non ci non ci permetterà di recuperare il terreno perso ci aspettiamo per il 2020 su base a una riduzione di circa il 30 per cento della dimensione del business che gestiremo nel 2021 ci aspettiamo una ripresa importante sebbene riteniamo che i volumi che avevamo previsto nel 2020 si ripresenteranno soltanto nel 2022 tra i settori di maggiore contrazione dato per scontato e lo leggiamo tutti ciò che sta succedendo sull'automotive che per noi significa per noi job significa soprattutto la costruzione di stampi l'altro settore sul quale stiamo constatando una riduzione piuttosto importante quella dell'aeronautica la cui ripresa non è prevedibile prima di un anno rispetto ad oggi ottima opportunità viceversa vediamo sia sul compatto della difesa che per quanto riguarda lo spazio su questi settori stiamo concentrato l'azione commerciale le affianchiamo ad azioni rivolte alle applicazioni di meccanica generale in particolare costruttori di macchine abbiamo individuato nell'ambito della meccanica generale quei per le applicazioni che ben si adattano ai prodotti altrimenti disponibili in maniera tale da poter affrontare il mercato in azione maggiormente mirata su settori che abbiamo sempre servito ma con una diciamo una percentuale di presenza nell'ambito dei nostri volumi più bassa rispetto a quella che ci aspettiamo nel prossimo futuro e d'altra parte la gamma di prodotti di jobs che a livello di brand significa jobs, rambaudi, sacman e sigma è sufficientemente ampia per poterci permettere di soddisfare la gran parte del fabbisogno della meccanica generale benissimo dai settori applicativi passiamo ai mercati la pandemia ha colpito praticamente tutto il mondo senza risparmiare nessun'area geografica bene in ottica di mercati quali a suo avviso potrebbero avere nel prossimo futuro qualche opportunità in più e quelle invece che potrebbero essere più difficili vista la situazione La Cina è stata la prima a ripartire e la stessa aeronautica in Cina viene e verrà alimentata di importanti progetti per la costruzione di aerei chiamavoli locali come il C2-919 e il C929 quest'ultimo sviluppato in partnership con la Russia quindi Cina è certamente un'area di enorme attenzione sulla quale abbiamo anche una struttura organizzativa piuttosto forte abbiamo una filiale con più di 15 persone gli Stati Uniti hanno importanti iniziative in corso la finalizzazione è oggi bloccata dalla difficile situazione di Covid riteniamo che la ripartenza sarà forte in quell'area sebbene posizionata sulla fine di quest'anno per quanto riguarda l'Europa la Francia ci mostra buone prospettive legate sia all'aerospaziale che all'energia e al ferroviario vediamo nella Russia un'importante alternativa tra virgolette rispetto ai mercati europei che ancora stentano a mostrare soliti segnali di ripresa quindi in sintesi Cina già oggi, Stati Uniti va sulla fine dell'anno nell'ambito della comunità europea, la Francia, quelle che può per quanto riguarda i settori ai quali ci riduziamo mostrare le opportunità più importanti e Russia grazie passiamo ora all'argomento di innovazione e di tecnologia sicuramente i periodi di crisi sono un'occasione per tutti per ripensare e per ragionare su quelle che potrebbero essere l'innovazione di prodotto e l'innovazione di processo all'interno delle aziende su quali strade si sta orientando Jobs anche cogliendo quelle che sono le esigenze specifiche del mercato quindi dove si sta andando dal punto di vista dell'innovazione? diciamo che durante il periodo di chiusura tutto ciò che era necessario per poter proseguire un livello di attività comunque basso ma proseguire l'attività di contatto questo è stato portato avanti attraverso la messa a punto di strumenti di attività da remoto smart working certamente ma abbiamo attivato interessanti attività sul web training sulla commissioning delle macchine da remoto andando a supportare attraverso strumenti informatizzati anche l'attività di messa in servizio delle macchine presso i nostri clienti e l'aspetto più importante è il cosiddetto virtual commissioning abbiamo sviluppato un progetto con la realizzazione della cosiddetta macchina virtuale questo ci permette da una parte di poter realizzare la logica della macchina avendo sotto un'immagine virtuale della macchina permettendoci pertanto di poter realizzare le attività operative in stabilimento in tempi molto più rapidi e con una qualità del risultato finale certamente più elevata riteniamo che gli strumenti che sono stati necessari durante il covid continueranno ad essere utilizzati anche in futuro perché hanno manifestato certamente una validità importante all'interno dell'azienda abbiamo lanciato una revisione dei processi di assemblaggio orientato a realizzare moduli validate e certificate su banchi prova questo sia allo scopo di ridurre i tempi di assemblaggio e di attraversamento ma anche per ottenere un miglioramento della qualità dei nostri prodotti finali questo è diciamo decisamente importante per i nostri macchinari più complessi e quelli di maggiore dimensione come lei e gli operatori del settore sanno sulle macchine più elevanti come i grandi portali di poter effettivamente ottimizzare le attività di assemblaggio e di installazione diventa fondamentale nei tempi e costi del prodotto finale in parallelo abbiamo portato avanti progetti di sensorizzazione delle nostre macchine siamo arrivati a livelli decisamente avanzati questa è una precondizione per poter fornire macchinari che siano in grado di dialogare sia con il cliente che con i nostri centri di service naturalmente il fatto di avere poi presso di noi la cosiddetta macchina virtuale possiamo effettivamente realizzare attività di diagnosi per quanto riguarda la macchina reale installata presso i clienti ottimizzando le performance della macchina attraverso azioni che vengono guidate dalle capacità predictive dei software che abbiamo implementato al nostro interno Benissimo, grazie mille Ingeniero Galini come al solito risposte puntuali e precise ringraziamo anche i nostri lettori diciamo che ascolteranno questa intervista e diamo appuntamento a loro alla prossima video intervista di tecnologie meccaniche grazie a tutti e buona giornata buona giornata a tutti grazie